La bolletta bollente, l'ho inventata io, e così la gente strapaga luce e gas. Altro Consumo ha creato Abbassa la Bolletta. Abbassa che? Un gruppo d'acquisto per ridurre le bollette. Così noi consumatori insieme paghiamo meno. Può aderire chiunque, gratis e senza impegno. Ma quanto è grande questo gruppo abbassa la bolletta? C'è la coda. Altro Consumo, ne sa uno più del diavolo. Chiama l'813 7050 e aderisci subito. È gratis!